Floriana è una donna giovane, moglie taciturna e vessata. Madre erritrosa e femmina negata, casalinga perfetta e frustrata. Floriana è una crisalide chiusa e compressa. Ma la storia cerca il suo riscatto e ci racconta con parole lievi la miracolosa nascita di una farfalla. Una favola moderna, delicata e sorprendente. Dall'autore di Il profumo della neve, finalista al premio Strega 2007, Lo show della farfalla di Franco Matteucci.